Io sono padre Adriano Canossiano, sono stato inviato qui a Timor nel 2013 perché già da vent'anni avevamo giovani che venivano da Timor a Manila per diventare sacerdoti canossiani e l'esperienza ci ha insegnato che la formazione prima è meglio farla nella loro terra, nella loro cultura. Allora siamo venuti qui per aiutare i giovani a vedere se stessi, a scoprire quello che il Signore voleva per loro. E due anni fa abbiamo trovato questa zona, questa terra che a noi piace molto qui a Hera, silenziosa, e l'abbiamo costruito e adesso siamo qui da un anno e mezzo, stiamo qui dentro. Quattro 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 Quello che ci si servono aiutare i nostri spieghi, ci si servono a nessuna, e che ci servono aiutare i nostri spieghi, le nostri spieghi, le nostri spieghi, il nostro pastore. Per esempio, l'experimentazione della famiglia della famiglia della famiglia della famiglia della famiglia della famiglia. L'attività principale sono la fondazione per i ragazzi, la preghiera, lo studio. Poi animano anche un po' attività di oratorio il sabato e la domenica. Abbiamo ragazzini e ragazzine che vengono ogni sabato parigi a domenica. Facciamo un po' di catechismo, facciamo un po' di classe di ripetizione di inglese, di portoghese, di matematica, secondo le necessità dei bambini. E poi giocano, poi li animiamo nel gioco. Abbiamo anche un po' di Bible sharing, condivisione della Bibbia. Di solito andiamo in riva al mare qui vicino, perché da casa nostra al mare ci sono solo cinque minuti di strada. Di bello c'è tanto, c'è per esempio la natura, se si va sui monti è molto bella, tranquilla, la gente è molto accogliente, semplice. Ai bambini sono un tesoro, specialmente quelli nelle province ti corrono dietro, cercano. Poi anche il loro senso del divino lo trovano in tutte le cose vicino alla natura. Prima dell'arrivo del cristianesimo c'era già una religione animista. È qualcosa anche di molto bello vedere come sono in contatto con questo sopranaturale, anche senza conoscere i missionari. La Cattolica Church insegna a noi, quando stavo studiando, la lingua culturazione. Non cambiamo la cultura, ma proviamo a portare la città alla cultura, la tradizione, e proviamo a portare la cultura, la tradizione, alla tradizione. La razza di cui siamo qui è perché la diocese entrata a noi, la città qui dà l'arrivo del sacro di Gesù, ma è una classica, la città che siamo arrivati a noi, Ma non è un animismo, perché prima che la cattolica chiusa venire a Timor, i nostri ascoltatori avevano già creduto in God, ma loro credono per la creazione. Per esempio, si poteva una stona e poi chiede a God per la stona, non significa che loro credono in la stona, ma loro credono in la stona. ... ... ... ... Una proposta, non è stata diffusa. La promessa d'evento, è stata un'espressiva, ma era un'espressiva, in cui hanno parlato di marroma e hanno parlato di marroma del marroma, e hanno appena portato a loro. La loro ha vittima. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Il nostro corso e il nostro corso il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 e www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info La difficoltà che vediamo qui è che, little by little, i ragazzi vivono il loro posto per andare a la città. C'è quello che pensiamo che, per l'interno, potrebbero perdere l'identità di essere parte di questo posto. Questo è un progetto per i ragazzi. C'è quello che cercano di incontrare loro a valutare e a vedere la valutazione di essere una con queste persone. E poi potrezzare loro identità culturali. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è di continuare la missione che il Diocese interessa a noi. A stasera, mettiamo in pratica il nostro carizzo per aiutare i pochi, i piccoli e i bambini. Penso che la cosa più bella è il rispetto per la natura, il rispetto per gli altri e il contatto con il Signore che lo troviamo non solo nelle nostre cappelle, non solo in chiesa, ma lo troviamo con le persone e lo troviamo dove andiamo. Il Signore è già lì, lo dobbiamo cercare, non lo portiamo a noi. Il nostro corso gratuito è giusto per avere miglati, non lo troppo ma contribuisce a la loro morale. La loro famiglia, 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 la loro famiglia. Quando stavo studiando Theologia, i dei centri di cui usiamo la prima volta, da parte della Churche non c'è salvazione, e non credo. Non credo. Se un priest si senti in la Churche senza andare a metere la gente, non c'è salvazione. E non credo che la salvazione quando si andiamo a metere la gente, parlare con loro, ascoltare con loro. Questo credo è salvazione. è un'esercitazione. Un'esercitazione. Non credo. E non credo. Ancetà... Grazie a tutti